avrete notato buongiorno buongiorno prima di tutto e bentrovati che la nostra ora solare parte proprio da un bel sole in un cielo azzurro allora mi viene da dire per queste questi 12 secondi che vi sto per presentare chiudi gli occhi e vola invece vi prego tenete gli occhi ben aperti e guardate con la massima attenzione questa ragazza che sta volando per questa ragazza che abbiamo visto volare nel documentario chiudi gli occhi e vola di giulia pietrangeli nulla è impossibile credetemi nulla è impossibile perché quella ragazza e non vedente e stava lì su quell'aereo e mica una volta lei è una che sa volare sabrina papa eccola qua buongiorno sabrina grazie buongiorno benvenuta all'ora solare grazie mille che più solare di lei sinceramente quando dobbiamo fare una hit parade delle persone più solari ma lei stia tranquilla e piazzatissima allora sabrina primo la dovrei presentare adesso dicendo che la prima allieva pilota non vedente prima di tutto questo è un portento di donna è un portento credetemi bastano pochi minuti le si sta accanto e si scopre che lei sia veramente un portento e adesso rientro nel ruolo è la prima allieva pilota non vedente o cieca o cieca e forse è meglio forse è meglio si perché non vedente è una negazione non vedente è una negazione ed è forse anche un perbenismo alla fine si dice cieco infatti c'è l'unione dei ciechi oppure non lo so in spagna dicono siego in francia dicono aveugle in inghilterra dicono blind quindi una parola è quella è quella è cieca quello è punto cosa vi avevo detto cosa vi avevo detto allora quando quando una bambina non vede è cieca e sogna fin da piccola tra le altre cose sia chiaro di volare cioè di andare sull'aereo di prendere l'aereo prendere l'aereo siamo buoni tutti di essere l'aereo come arriva fino a quello che abbiamo visto come c'è arrivata mi viene da dire fortuna però va bene ok la fortuna la fortuna ride agli audaci andiamo esatto la fortuna bisogna cercarsela perché le cose non non piovono dal cielo bisogna comunque cercare di creare le condizioni dopodiché una volta create le condizioni le cose quasi vengono da sé si può dire no io quando ero piccolina che sentivo questi aerei perché io vengo dal Salento il mio paese Salice Salentino è vicino diciamo non molto lontano dalla base dell'aeronautica militare dove c'è un'importante scuola di Galatina e quindi questi aerei che mi passavano sulla testa io sentivo questo rumore e correvo in giardino in terrazzo sperando che mi vedessero perché ovviamente io non li potevo vedere ma li potevo sentire e speravo che loro non i piloti gli aerei mi vedessero sentivo proprio questo rombo che da qui come se mi mi strappasse se vogliamo da dalla terra io volevo stare lassù in quel cielo libero e quel cielo senza ostacoli immenso e potevo correre veloce immaginavo questi aerei appunto che volavano veloci che si rotolavano che non avevano ostacoli quindi probabilmente anche il discorso se vogliamo legato anche alla mia condizione anche se poi tutti i bambini vedono gli aerei e vogliono stare lassù perché il volo è libertà però nel mio caso la terra era piena di ostacoli lì non puoi andare perché sbatti lì perché cadi ti devono accompagnare dipendi sempre da qualcuno il cielo invece era ed è libero adesso questa gliela devo dire se lei potesse vedere la mia faccia guardi vuoi vedere come mi sento sdoganata la immagino proprio la prego di immaginare l'ammirazione sta colando ammirazione da tutte le parti non so come dire lo immagino perché è un effetto che faccio ma poi in realtà io sono un essere umano cioè addirittura con una disabilità con tanti difetti legati alla disabilità legati al carattere legato al mio percorso di vita ci avrò pure qualche pregio da qualche parte però insomma poi alla fine la vita è questo lungo e bellissimo passaggio tra la nascita e la morte le scelte sono due o ti lascio andare e ti piangi addosso oppure dici io fino alla morte ci devo arrivare cerco di arrivarci nel miglior modo che posso ho dei desideri ho delle possibilità ho dei limiti vediamo se sono dei limiti perché io mi sono sempre sentita dire anche da piccola dai miei genitori che comunque erano giustamente protettivi come lo sono tutti i genitori a maggior ragione con una persona che ha un handicap questa cosa non è per te questa non la puoi fare hanno cominciato i genitori e poi tutto il resto del mondo ovviamente allora io non ho lo spirito di contraddizione per dire ah tu mi dici di no io dico di sì no io ho sempre voluto sapere il perché delle cose allora tu questa cosa non la puoi fare perché non la posso fare scopriamolo poi cominci a capire perché alla fine eh no invece la puoi fare magari in un modo diverso magari ci metti il doppio del tempo magari non riesci a farla al 100% ma all'80% ma è sempre meglio di niente e alla fine scopri che invece quella cosa la puoi fare benissimo quindi i limiti ci sono ci sono dei limiti oggettivi che tu non puoi altra passare non ci vedi punto se mi mettono un giornale davanti io non lo leggo mi mettono davanti alla televisione io non la vedo le immagini non le vedo i colori io non li vedo quindi quello è logico che ho il limite non posso guidare la macchina da sola andrei a sbattere prima ancora di metterla in moto quindi quelli cioè ci sono dei limiti ce ne sono altri che invece possono essere bypassati o con l'aiuto della tecnologia o con la disponibilità delle persone che ti sono accanto se io non avessi avuto il mio istruttore che si metteva in gioco e diceva proviamo così come tante altre persone che hanno detto i ciechi possono studiare diamogli queste possibilità inventiamo questi strumenti didattici diamogli cioè è sempre una questione di persone che provano che tentano che si mettono in gioco che mettono a disposizione la loro professionalità le loro competenze il loro buonsenso e la loro generosità ovviamente allora a quel punto molti limiti possono diventare dei non limiti un momento mi faccia respirare c'è una chiacchiera no no non è la chiacchiera è la qualità delle cose che dice non è la chiacchiera Sabrina è quello che lei sta dicendo che è mi creda immenso come il cielo che lei ha fatto suo perché una macchina non la potrà guidare e quindi avendo una certa difficoltà sulla terra lei in cielo ci è andata e ci va e noi abbiamo contattato Sergio Pizzichini ex istruttore l'uomo che ha permesso a Sabrina di spiccare il volo e c'è questo messaggio per lei e per tutti noi andiamo ciao Sabrina eccomi qui dici sempre che ti lascio da sola in queste occasioni invece questa volta eccomi ultimamente ci stanno mettendo un po' il bastone tra le ruote o il bastone tra le eliche come dici tu ma non mollare vai avanti così non mollare mai per te e per gli altri a venire conta sempre anche su di me un bacione grande ciao salve che ne dici diciamo che non posso piangere se no mi si scioglie il trucco è meravigliosa non posso piangere perché mi si scioglie il trucco però a lei bastoni tra le eliche non li può mettere nessuno vero? poi adesso tra un attimo si racconta diciamo di no è chiaro che tutti ci provano perché cosa puoi purtroppo quando uno raggiunge degli obiettivi realizza dei sogni è felice e c'è sempre qualcuno che o per invidia o per ignoranza cerca in qualche modo di metterti delle difficoltà però le difficoltà servono anche per essere superate magari quando uno le supera poi è ancora più contento ancora più soddisfatto eccola qua un attimo un attimo un attimo fermo Sabrina eccola qua Sabrina queste immagini che vi abbiamo fatto vedere questa è una ragazza che non sta vedendo quello che stiamo vedendo noi però sull'aereo c'è lei e noi tra un istante lasciate la finestra spalancata sentite il rombo di quel motore di quelle eliche sentite il volo di Sabrina che è un portento di donna all'ora solare arriviamo tra un attimo io sono proprio straordinaria formidabile bellissima eccezionale Sabrina Papa la prima donna allieva pilota non vedente e qui devo dire non vedente ma poco fa lei in maniera molto cieca e quindi questo è arriviamo a quelle 50 oltre 50 ore di volo all'attivo ma di fatto Sabrina come come ci è riuscita allora diciamo che è stato ripeto io ho avuto sempre questo pallino del volo ma non l'ho mai confessato neanche a me stessa in realtà perché come fai a dirlo cioè è ovvio no? sì ovvio certo e un po' di anni fa però avevo letto un post sui social i famosi social che bisogna prendere con le pinze però in questo caso devo dire che mi hanno aiutato ho letto un post che parlava di piloti diversamente abili e poi ho scoperto che erano i piloti in carrozzina l'associazione dei baroni rotti sono persone in carrozzina che pilotano l'aereo un aereo ovviamente modificato quindi io ho detto vabbè l'aereo è modificato così come è modificata la macchina dove è il problema però li ho contattati lo stesso e gli ho detto ma io vorrei volare così come passeggera fare un voletto ogni tanto e dove posso dove posso andare e uno di loro e Gian Paolo mi ha risposto e mi ha detto guarda io vado in un aeroclub se vuoi parlo con il mio istruttore e puoi venire lì nel giro di due giorni ho cercato in giro una persona che potesse accompagnarmi cosa non facile però insomma alla fine l'ho trovata e ci sono andata devo dire che ero molto molto contenta emozionata e in volo l'istruttore così come si fa con tutti anche quelli che volano per la prima volta si chiama volo di ambientamento in realtà ti lascia i comandi per qualche secondo per farti capire come funziona un aereo come vola come io sono scesa aggasatissima ho detto ma io posso tornare qui ogni tanto fa tutte le volte che vuoi e quindi ho cominciato a volare sempre come passeggera però questo istruttore ogni volta mi lasciava i comandi sempre di più sempre di più e fino a quando una volta gli ho detto ma io posso fare il decollo quando tu me lo dici sì e abbiamo fatto anche il decollo un giorno una domenica sono andata ma questo istruttore non c'era e c'era Sergio con cui io non avevo mai volato neanche me lo ricordavo non lo conoscevo dico oddio questo mo che vuole non mi farà volare manco cioè non mi farà prendere i comandi neanche mezzo secondo tutti che mi dicevano no no guarda che Sergio ti lascia l'aereo dall'inizio alla fine sì vabbè dall'inizio alla fine come faccio io dall'inizio alla fine saliamo su un aereo con i posti affiancati uno accanto all'altro e Sergio voleva trovare il modo di darmi quante più informazioni possibili però in maniera immediata perché in volo se tu dai un'informazione a voce è comunque un'elaborazione che tu devi fare l'altra persona la sente ed è un'altra elaborazione poi la devi mettere in pratica ed è un tempo che si perde esatto ovvio allora lui ha detto ma perché non usiamo lo Sky Arrow che invece è un aereo in tandem ho detto a me lo Sky Arrow non piace perché io devo stare seduta dietro invece qui posso sedermi davanti fa guarda facciamo così tu impari il cruscotto a memoria quindi la posizione delle leve dei comandi io mi seguo dietro ti metto le mani sulle spalle e ti do la posizione dell'aereo mediante il mio movimento delle mani sulle spalle quindi se io faccio così vuol dire che l'aereo è il muso in giù e tu lo devi alzare se io faccio così vuol dire che l'aereo è piegato sul lato destro e tu lo devi raddrizzare abbiamo fatto un po' di prove e così abbiamo cominciato abbiamo fatto il primo volo che a parte l'atterraggio è andato piuttosto bene e poi la cosa ci ha presi molto quindi abbiamo cominciato a lavorarci a perfezionare il metodo a fare tanti tentativi perché dovevamo in qualche modo entrare in simbiosi io e lui ci doveva essere un'intesa perfetta lui doveva sapere fino a che punto lasciarmi fare quando intervenire e le mie reazioni le mie tempistiche nel momento in cui lui interveniva cioè lei è riuscita a diventare quell'aereo io sono riuscita a diventare quell'aereo lei ha detto poco fa io volevo diventare l'aereo e ci sono riuscita perché in realtà in realtà e questo tutti i piloti lo sanno si dice che l'aereo tu te lo devi vestire addosso cioè diventi un tutt'uno con l'aereo l'aereo diventa parte di te e soprattutto quando poi tu piloti sempre lo stesso aereo riconosci ogni minimo difetto pregio rumore cambio tutto nel mio caso in più c'era anche l'istruttore che però non è stato diciamo il terzo incomodo anzi è entrato a far parte di noi io l'aereo e Sergio io l'aereo e l'istruttore siamo un tutt'uno allora questa ragazza ha un sogno ed è estremamente pericolosa perché visto che l'impossibile non esiste a questo punto perché quando sogna qualcosa prima o poi arriva all'obiettivo le frecce tricolori voi sapete che le frecce tricolori sono forse le frecce tricolori è un po' tanto ma no ma diciamolo l'aereo l'aereo è quello quello intendevo poi se sono le frecce tricolori non rifiuto delle frecce tricolori allora si sa questa notizia è notizia nota in giro e noi speriamo tanto che che questo sogno diventi una realtà ovviamente prometto di fare la brava passeggera e non di dire al pilota adesso piloto io assolutamente su questo non sarei così sicura però è come se non avessi detto questa frase non l'ho detta 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 guardiamo solo ancora queste immagini vi prego Sabrina che incontra Papa Francesco e quando Sabrina ha incontrato Papa Francesco c'era anche voi l'avete anche vista nelle immagini di apertura Elettra Elettra è stata ed è continua a essere non solo il cane guida ma l'angelo custode che a un certo punto è volato via ma per appunto Sabrina va in cielo com'è stato incontrare Papa Francesco è stata un'esperienza particolare dire emozionante è un po' forse sminuente però poi col fatto che io appunto avevo Elettra e quindi eravamo un gruppo di ciechi con i cani guida eravamo da una parte non eravamo in mezzo a tutto il resto del pubblico eravamo dove c'era più spazio quindi io non so perché ma intuivo che lui lì si sarebbe avvicinato vuoi per i cani vuoi perché c'era più spazio ecco io sicuramente lo potrò incontrare perché si avvicinerà e gli ho dato la mano e mi ha tenuto la mano almeno per un minuto abbiamo parlato non mi ricordo neanche di cosa però io questa mano me la ricordo era una persona che trasmetteva tanta energia positiva io in quella mano mi sono sentita protetta come se lui con quella mano dicesse non ti preoccupare ci sono io e quando io sento le cose che lui dice le posizioni che lui prende contro la guerra contro diciamo tutte le problematiche le scelte errate dei vari governi eccetera quando lui dice la sua io questa sicurezza è come se sentissi ancora quella mano che dice non ti preoccupare ci sono io Sabrina lei è un regalo è stato un regalo oggi io ora la saluto e mi allontano grazie grazie a voi questa sua stretta di mano questa sua presenza creda noi ce la portiamo a casa come un regalo grazie grazie comandante grazie comandante comandante Sabrina Papa prossimamente chissà sull'aereo delle frecce tricolori e noi voltiamo pagina grazie a tutti di aver seguito con così tanta attenzione voltiamo pagina il 27 gennaio oggi il 27 gennaio è la giornata della memoria la giornata mondiale più che mai della memoria e la nostra tv 2000 presenta questa sera un documentario importantissimo che vi preghiamo assolutamente di non perdere il titolo è io ti ricordo è uno speciale di bel tempo si spera dei nostri colleghi di bel tempo si spera che va in onda questa sera alle ore 23 sono tre donne tre donne che hanno voce in questo documentario donne che hanno vissuto l'orrore dei lager di Auschwitz e di Birkenau è stato realizzato da Antonella Ventre e da Serena Cirillo e noi ne vediamo una piccola parte in attesa della vostra attenzione questa sera alle ore 23 su tv 2000 io ti ricordo vediamo in Auschwitz ci sono le scarpe che parlano ci sono le valigie che parlano gli occhiali che parlano le baracche che parlano la terra che parla il vento che parla il sole doveva vergognarsi di uscire in questo posto il lavoro rende liberi bisognava anche subire questo affronto entrando all'interno di quei campi abbiamo preso un documento che visto come lo vedrete tra poco è fatto semplicemente di numeri quei numeri sono stati stilati dai nazisti da Adolf Eichmann sono più di 11 milioni 11 milioni proprio come un conto come se fosse un'addizione lo è erano questi gli 11 milioni di ebrei che andavano eliminati dall'Europa era la soluzione finale la soluzione finale che prevedeva la selezione naturale di ebrei per inferiorità della loro razza sto citando e per necessità di eliminazione appunto della razza ebraica dall'Europa questo noi ricordiamo oggi con il terrore che ci corre nella schiena con l'incredulità che tutto questo sia stato questa era l'eliminazione di 11 milioni di ebrei dal territorio europeo andarono oltre la metà di questo conto è storia lo sappiamo perfettamente noi oggi vogliamo ricordare con una con una ricerca che è stata molto importante anche anche tante altre persone che sono scomparsi in quei campi che hanno subito quell'affronto della vita prima ancora di arrivare alla loro morte e c'è un bravissimo giornalista Francesco Veltri che è qui nostro ospite oggi grazie che ha scritto questo libro il mediano di Mauthausen perché c'era una storia da recuperare c'era la storia di un uomo che doveva essere ricordata di un uomo e di suo fratello c'è Federico Molinario collegato con noi da Milano Federico buongiorno ben arrivato buongiorno buongiorno grazie grazie a lei allora quest'uomo si chiamava Vittorio Staccione un bel ragazzo che faceva il calciatore che insomma sembrava aver fatto gol nella propria vita lei è il come la posso dire lei è suo nonno era fratello di Vittorio Staccione esatto esatto mio nonno Eugenio era il fratello più piccolo di Vittorio e Francesco e Francesco esatto perché moriranno in due moriranno in due per mano dei nazisti esattamente sia Vittorio che Francesco mi sposto per un istante da Francesco Veltri perché come avete deciso come hai deciso di far rivivere questa storia ma è arrivata quasi casualmente io lo spiego anche nel libro è arrivata quasi dal cielo questa storia l'ho scoperta cinque anni fa circa stavo facendo le ricerche giornalistiche legate essenzialmente alla mia città io sono di Cosenza e ho scoperto che un giocatore morto a Matausen in un campo di concentramento aveva militato anche negli anni 30 aveva giocato con il Cosenza con la squadra della mia città ho indagato un pochettino ho fatto una breve ricerca e ho scritto un articolo da lì in poi mi si è aperto un mondo perché mi si è avvicinato Federico Molinari ho scoperto questo articolo e da lì in poi è nata una grande amicizia e pian piano siamo riusciti a ricostruire in maniera dettagliata sono stati due anni e mezzo di ricerche anche molto approfondite e faticose alla fine siamo riusciti a ricostruire credo dettagliatamente la storia di questo sfortunato calciatore un calciatore Federico che è un mediano molto popolare molto molto amato nella sua e nella vostra città nella Torino di allora vince uno scudetto che poi viene revocato nel 26 poi veste le maglie della Cremonese Fiorentina appunto Cosenza ma era viveva da operaio perché poi insomma il calcio all'epoca non era non era lo sport di oggi e che uomo era? Che uomo era Vittorio? Beh era un uomo molto semplice molto umile diciamo la sua famiglia era una famiglia operaia di Torino della fine dell'Ottocento quindi il nonno lavorava in fonderia nonno Achille e quindi era una famiglia molto povera con veramente pochissimi mezzi però l'idea il nonno Achille è aderito immediatamente al partito socialista appena nato alla fine dell'Ottocento e ha trasmesso questa questa voglia di uguaglianza di di civiltà ai figli da prima Francesco il più vecchio che era nato nel 1894 e successivamente anche a Vittorio del 1904 nonostante l'attività sportiva che ha condotto anche in maniera importante negli anni 20 e negli anni 30 nelle squadre che ha citato in ogni caso la sua vita successivamente si è svolta poi come operaio perché diciamo gli introiti che poteva avere come giocatore non erano sicuramente quelli di adesso e quindi appena finito l'attività sportiva è tornato a Torino e ha cominciato a lavorare a tornare a lavorare come tornitore nelle varie fabbriche di Torino tra cui anche la più importante la grandi motori navali della Fiat ed è proprio in questa fabbrica che negli anni prima diciamo gli ultimi anni prima della seconda guerra mondiale e durante la seconda guerra mondiale ha contribuito a collegare i partigiani l'opposizione al regime fascista con l'interno della fabbrica allora e questo è arrivato diciamo a portarlo a una situazione che poi ha determinato la sua deportazione gli è costata la vita Francesco Francesco Veltri due vite parallele quindi no la vita da calciatore e l'attenzione ai diritti dei lavoratori perché era lui stesso lavoratore e però una condizione di difficoltà anche nella gestione del proprio essere calciatore quindi facciamo un passo indietro per esempio non partecipa il giorno dell'inaugurazione dello stadio Philadelphia del grande Torino perché? probabilmente prima della partita siamo riusciti a risalire a questo episodio è stato aggredito da alcuni squadristi del regime sono state fratturate due costole quindi non è riuscito a scendere in campo in quella partita giocava passava la palla che poi andava in rete si faceva la cronaca della partita sui giornali abbiamo un documento vedrete una X non è il Totocal cioè non è 1x2 c'è una X questo è accaduto a Cremona a Cremona il RAS di Cremona l'ospietato Roberto Farinacci conosciutissimo anche per essere stato uno dei protagonisti alla marcia sul Roma era il RAS di Cremona ed era anche il direttore di Cremona Nuova il quotidiano di Cremona che poi diventerà il regime fascista un quotidiano attiratore nazionale appena Staccione arrivò a Cremona ordinò i suoi cronisti i suoi redattori di non citare mai il nome di questo calciatore che lui considerava aveva avuto un dettagliato rapporto su di lui considerava un sovversivo un antifascista e quindi non poteva assolutamente apparire il suo nome sui giornali dell'epoca appariva calciatore X appariva calciatore X anche nelle cronache nelle famose cronache e le partite il suo nome non veniva citato anche se spesso risultava il miglior in campo allora noi arriviamo fino alla deportazione a Mauthausen non prima di dirvi che la vita si accanisce contro quest'uomo si sposa con una donna bella e che ama profondamente è Giulia Vannetti detta Fiammetta nasce una bambina e muore questa bambina e muore la mamma perché di parto si moriva alla nascita e morivano le madri quindi si pochissimi giorni dopo a distanza di pochissimi giorni tra l'altro Vittorio Staccione tra il parto di sua figlia e poi la morte di sua moglie gioca anche due partite è costretto a disputare due partite dalla Fiorentina poi vive questo dolore immenso che ovviamente minerà in maniera determinante il suo carattere anche negli anni successivi i tedeschi che occupano Torino i tedeschi occupano Torino insomma voglio dire provate a pensare a Roma città aperta tanto per tornare al genio di Roberto Rossellini e sapendo che però non è un film questa è stata tutta verità portano all'arresto insomma ci sono retate di arresti a seguito degli scioperi del 44 che sono famosi nelle fabbriche del nord Italia in generale ma soprattutto a Torino a seguito di questi scioperi che in realtà volevano dimostrare come ricordava anche Federico che c'era un legame tra il mondo operaio e i partigiani che combattevano contro il nazifascismo ci sono questi scioperi ovviamente partono degli arresti dopo questi scioperi e in questi arresti ovviamente rientrano anche sia Francesco il fratello di Vittorio pochi giorni dopo Vittorio su delazione una spia ovviamente farà il suo nome addirittura dirà che è stato uno degli organizzatori degli scioperi del marzo del 44 Vittorio Staccione verrà arrestato e da lì ovviamente poi inizierà il suo calvario ora però c'è una pagina in questo libro che è particolarmente tra le tante particolarmente commovente perché il commissariato è quello di una zona di Torino che oggi è Torino-Torino però si chiamava Madonna di Campagna ed era periferia di Torino periferia in tutti i sensi periferia operaia e periferia Madonna di Campagna quindi insomma tendeva più all'esterno e gli volevano bene in questo quartiere anche il commissario di polizia gli voleva bene era il commissario Vigliardi sono riuscito anche a risalire al suo nome conosceva benissimo la famiglia Staccione conosceva benissimo Vittorio tra l'altro Vittorio per quanto gli anni fossero diversi rispetto a quelli di oggi però Vittorio Staccione era un giocatore ex giocatore del Torino campione d'Italia ha vinto anche uno scudetto anche se poi è stato revocato quindi conoscevano bene quindi era comunque amato conoscevano bene la famiglia e sapevano che tipo di famiglia era una famiglia umile che si faceva ben volere da tutti quando Vittorio Staccione si presenta in caserma ovviamente rimangono tutti sbigottiti e dicono Vittorio sono ordini superiori devi andare in un posto dove farà molto freddo provano a dargli una possibilità di fuga gli dicono torna a casa da solo prendi qualche indumento pesante perché lì farà molto freddo cioè gli dicono scappa gli stanno suggerendo di scappare in montagna di andare via il più lontano possibile da Torino ma Vittorio Staccione credeva nella sua innocenza credeva nella giustizia era stato arrestato più volte per niente torna a casa riempie la valigia di qualche indumento pesante ritorna in caserma e da lì purtroppo poi si apriranno le porte di Mauthausen in questo libro è raccontato anche a Mauthausen il brevissimo incontro con il fratello torno tra un attimo anche da Federico perché sono state dedicate delle pietre d'inciampo a questi due fratelli e poi c'è la pagina dove lo dichiaro io ho visto persone piangere tra cui ringrazio ancora Natalia Castiglia che ha preparato per noi questa scheda piangere cioè le lacrime sulla scrivania perché pelle e ossa viene chiamato dall'ESS a giocare a pallone sì io racconto parto proprio con questa partita il mio libro parte proprio da questa partita poi ci arriverò ovviamente nell'ultimo capitolo ogni domenica questa è un'altra scoperta che abbiamo fatto durante le nostre ricerche i soldati nazisti erano abituati a giocare una partita di svago nel campo c'era un campo di calcio a Mauthausen distante pochissimi metri da questa fortezza giocavano fra di loro ma se mancava all'appello qualche giocatore qualche soldato tedesco veniva chiamato in sostituzione un deportato uno o più deportati nel novembre del 1944 Vittorio Staccione pesava 40 chili poco più veniva da otto mesi ovviamente di lavori forzati comunque di fame nel campo di concentramento ovviamente si può solo immaginare quello che ha vissuto Vittorio Staccione tutti i deportati in quel campo di concentramento fu obbligato a giocare questa partita con la sua divisa a righe quindi non gli detero nemmeno una divisa regolare per poter giocare e giocò questa partita accanto a quelli che poi otto mesi dopo diventeranno i suoi assassini muore nel marzo del 45 pensate pochi mesi prima della liberazione stava finendo la guerra e lui muore di setticemia oltre a essere stato umiliato con botte, torture e tutto quello che tutto quello che noi possiamo a malapena immaginare io ripeto sempre quando leggi queste pagine sogni di essere un albero di non appartenere al genere umano di dire io sono un vegetale con gli uomini non ho non ho niente a che spartire Federico Molinario torno da lei per i tanti riconoscimenti sportivi che questi questo zio se così possiamo dire ha ricevuto senza dimenticare l'altro fratello sia chiaro sono stati in due a morire per la libertà a Mauthausen queste pietre d'inciampo questa storia questa memoria come è vissuta nella vostra famiglia? ma allora diciamo che l'eredità che i due fratelli lo zio Francesco e lo zio Vittorio ci hanno lasciato è un'eredità molto pesante noi cerchiamo di onorarla al meglio e ho fatto mio diciamo questo questo progetto di portare di nuovo a galla con Francesco tutta la storia la vera storia dei fratelli Staccione collegato a questo oltre agli riconoscimenti che abbiamo avuto che ho avuto dalla Cremonese con la dedica di una lapide allo Stadio Zini dalla Fiorentina con l'inserimento alla Hall of Fame della Fiorentina abbiamo con l'Istituto per la Resistenza di Torino messo in piedi diciamo la celebrazione delle due pietre d'inciampo una nello scorso gennaio per Vittorio in via San Donato 27 e quest'anno in via Pianezza 10 per l'altro fratello Francesco sono state due esperienze molto belle molto belle perché comunque hanno contribuito a celebrare questa pietra d'inciampo anche delle scuole dei plessi scolastici di Torino che hanno partecipato questi ragazzi devo dire in maniera entusiastica e mi ha fatto molto piacere è stata una scoperta di questi ragazzi delle medie elementari che si sono prestati anche con delle opere fatte da loro quindi con dei disegni delle poesie è stato molto toccante hanno lavorato sulla materia più importante che si possa insegnare per la quale credete siamo tutti ripetenti fino a cent'anni la memoria perché è la memoria che dobbiamo far crescere sono libri come questi il mediano di Mauthausen del nostro Francesco Veltri che dobbiamo leggere e sono le storie che non dobbiamo dimenticare mai grazie a Francesco Veltri grazie a Federico Molinario grazie per essere stati con noi e noi ci fermiamo non prima di guardare insieme a voi queste immagini il nostro piccolo omaggio a questi uomini e a quest'uomo e alla sua partita della vita grazie grazie a tutti suor Grazia Loparco docente di storia della Chiesa nella Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium appartenente all'Ordine delle Figlie di Maria Ausiliatrice così importante mi ha detto possiamo darci del tu? e allora ti ringrazio di essere qui con noi grazie grazie mille grazie per me è molto difficile suor Grazia però accolgo è un regalo per me è un grandissimo regalo allora le Figlie di Maria Ausiliatrice sono le suore salesiane di Don Bosco è così? sì sono state fondate da Don Bosco nel 1872 con la collaborazione di Maria Domenica Mazzarello una santa anche lei in Piemonte per l'educazione delle ragazze soprattutto dei ceti popolari è il nostro modo di educare segue il sistema preventivo di Don Bosco ripensato al femminile e questa che oggi sembra non oggi sembra è da sempre da loro una grande garanzia però all'epoca è stato un miracolo nel miracolo di Don Bosco e appunto di questa suora Maria Domenica Mazzarello perché se la condizione dei ragazzi per strada dei ragazzi abbandonati dimenticati era difficilissima quella delle ragazze se possibile era più complessa ancora e siete arrivate voi e avete cominciato a cambiare le cose sì bene io mi occupo di storia quindi non sono portata ad esaltare una realtà ignorando le altre quindi devo dire che non ci sono solo le figlie di Maria Ausiliatrice ma nell'ottocento sorsero molte congregazioni femminili che si occuparono di educazione e di educazione anche popolare però certamente Don Bosco aveva un suo modo ecco e la proposta ha portato l'istituto per esempio ad una grande espansione internazionale sin dai primissimi anni dopo cinque anni dalla fondazione sei giovanissime suore pensi che la più giovane aveva 17 anni la più grande ne aveva 25 in che anni siamo? 1877 cioè vanno in Uruguay e dopo tre anni in Patagonia tanto per rendere le cose più semplici no chiedo scusa lo dico così perché ecco questo mettendoci nel mondo di allora però è vero sono nati poi sto zitta davanti a una professoressa però dà l'idea della portanza no? dell'importanza di tutto questo ma suor Grazia quando non è ancora suor Grazia come si avvicina a questo a questo mondo? ah beh io ho conosciuto le suore salesiane perché ho frequentato l'istituto magistrale a Martina Franca in Puglia sono di Locorotondo e lì diciamo che ha cominciato a prendere forma la domanda su un progetto di vita ma devo dire che già nella scuola media un professore di lettere ci pose la domanda cosa volete fare della vostra vita? Ogni vita è un compito la vita che non è cosa volete fare da grandi è un'altra storia la vita è una missione dunque lui seminò ecco tra noi preadolescenti quella domanda poi arrivano gli anni di piombo sono gli anni 70 no? e di fronte a all'inquietudine che come adolescenti sentivamo che tipo di vita vuoi? vuoi una vita comoda in cui ti sposi hai dei figli ti occupi della tua famiglia hai le tue sicurezze economiche un lavoro oppure oppure forse ti è chiesto qualcosa di più ecco lì negli anni dell'adolescenza io ho cominciato a chiedermi cosa davvero il Signore volesse da me che progetto c'era sulla mia vita e intanto devo dire sentivo da una parte ecco l'appello l'appello all'impegno socio-politico no? gli anni di piombo gli anni ancora della contestazione delle istituzioni dello status quo eccetera dall'altra parte ricordo Paolo VI con il suo invito alla rivoluzione alla civiltà dell'amore immenso Papa ecco questo questo mi è sembrato così strano quando l'ho sentito però qualcosa che che sentivo che poteva essere molto più fecondo anche perché mi accorgevo di come le suore salesiane dedicando la loro vita ai giovani a noi in realtà ci formavano con la cultura con le relazioni con lo star vicino con capire anche quello che ponevamo come domande Sol Grazia ma la tua famiglia perché c'è sempre una domanda da fare in questo senso cioè quando si dice la famiglia ha reagito male non immaginava una figlia che si fa suora è un grande dono però inequivocabilmente all'inizio il primo impatto è complicato per i genitori è complicato non c'è niente da fare è stato così anche per i tuoi? sì anche per i miei è stato così copione rispettato copione rispettatissimo come si dice anche perché sì insomma c'erano forse altri progetti no? e quindi era una vengo da una famiglia cristiana però nello stesso tempo cioè andava tutto bene si poteva pregare io ero anche catechista in parrocchia no? lo facevo volentieri non avevo nessun impedimento però poi parlare di un donare la vita totalmente è una scelta di questo genere è stato più faticoso da accettare e quando quando hanno quando hanno capito che fosse la scelta giusta perché ce l'abbiamo davanti a noi seduta in questa poltrona la persona giusta nel posto giusto quando hanno capito i genitori gli amici la famiglia insomma le persone intorno? ma questo è un po' difficile da dire quindi diciamo che ognuno ognuno nella mia famiglia ha fatto il suo percorso quindi ognuno ha capito nel momento in cui è arrivato il momento o ha capito o almeno ha accettato ha rispettato forse di una comprensione piena da parte di tutti non potrei parlare neanche oggi però diciamo che un grande rispetto sì e questo mi ha fatto anche capire di più quello che tante altre famiglie vivono a questo riguardo quindi io considero che anche questo sia stato positivo perché non è non è una situazione in cui tutti tutti condividono in cui tutti la vita è questo sono gradini scale salite discese si ripercuotono Sol Grazia Loparco poiché anche per questo noi l'abbiamo invitata ci ricorda ci fa il grande regalo di ricordarci l'incontro con Primo Levi sì e la tesi preparata su di lui sì sì praticamente nell'84 dovevo scegliere l'argomento della tesi e con il professor Giorgio Petrocchi in quello che era allora il Maria Assunta e ho scelto o meglio io avevo proposto Carlo Levi invece Giorgio Petrocchi il professore mi disse forse meglio Primo Levi avevo letto se questo è un uomo quindi mi è piaciuta la sua proposta e poi ho avuto la fortuna nel marzo dell'84 di poter andare a Torino a intervistarlo quindi conoscerlo di persona io ero suora da pochi mesi quindi non sapevo come mi avrebbe accolto come sarebbe stato quell'incontro però attraverso i suoi scritti avevo percepito una grande persona che uomo era? e qui te lo devo chiedere a me colpiva il suo la rettitudine della sua ricerca come chimico lui cercava la verità della stoffa dell'universo lui si interrogava sulla verità si interrogava sul senso della vita delle persone delle cose mi aveva affascinato perché tornare vivo da Auschwitz per lui non aveva comportato un atteggiamento di odio di giudizio ma con grande lucidità ecco lui ha raccontato per un senso di responsabilità devo dire che io in qualche modo ho sentito nell'insegnamento nei miei primi anni di insegnamento nel liceo a Taranto nel liceo delle figlie di Maria Ausiliatrice a Taranto nella scuola media ho sentito un po' quasi la sua consegna di voler raccogliere il suo testimone di raccontare perché i giovani potessero sapere applausi applausi in tutti i sensi e i giovani sanno anche devono scoprire come stabilito che la storia è tutta da studiare è un compasso a 360 gradi che ritorna sempre quindi scopri sto parlando ad una eccellente docente scopri come non si sia studiato ancora abbastanza quanto ancora ci sia da scoprire ci sono state anche tanti luoghi tante case religiose nelle quali gli ebrei sono stati nascosti mi viene in mente Don Pietro Pappagallo sapete il prete che venne trucidato le fosse erdeatine perché nella sua piccola canonica entravano gli ebrei entrava chiunque avesse bisogno di essere protetto e di quelle irruzioni nonostante tutto fatte da chi cercava di portare solo morte ecco questa è anche una pagina che dobbiamo studiare ed approfondire sempre di più sì sì io devo dire ho avuto la fortuna di avvicinarmi a questo tema quando dopo il dottorato in storia della chiesa alla Gregoriana con padre Martina con un gruppo di storici religiosi abbiamo pensato ad una associazione ad una associazione perché tra i religiosi e le religiose soprattutto dico io non è non è molto vivo il senso storico perché soprattutto le congregazioni di vita attiva si dedicano molto alle attività appunto poco allo studio della propria storia e invece io ho maturato la consapevolezza che è necessario è necessario perché da una da una conoscenza delle proprie radici può venire una fedeltà creativa una capacità critica sul presente di lì è venuta l'idea di una ricerca storica sugli ebrei nascosti nelle case religiose di Roma in particolare Suor Grazia che insegnante sei che docente sei non lo so severa quanto basta come deve essere forse un po' severa sì secondo le studenti sicuramente sì però io credo che sia un atto di fiducia verso i giovani chiedere che studino un po' seriamente e allora chiedo a questa figlia di Maria Ausiliatrice tu che cosa hai imparato fino ad oggi con quel velo con quella tenacia con quella fede che porti con te con questa insistenza con questa attenzione cosa hai imparato? io ho imparato che la vita è molto bella e che richiede a ciascuno di noi amore e un grande senso di responsabilità verso gli altri verso noi stessi e verso gli altri io sono particolarmente sensibile perché sono nella facoltà Auxilium dove abbiamo un'attenzione particolare all'educazione delle donne ma a raggio internazionale quindi ho imparato che per poter vivere la propria dignità per poter vivere secondo la propria dignità è necessario maturare è necessaria una educazione integrale quindi ho capito che spendere la vita per questo vale la pena in fondo tutta la mia vita è stata la ricerca di senso io l'ho trovato questo senso ce ne siamo accorti e allora questo è quello che io penso posso comunicare come ricerca non come qualcosa di acquisito una volta per tutti suor grazia Loparco niente più da aggiungere anche questa volta grazie di essere stata con noi la recita della coroncina alla divina misericordia poi siamo noi e domani alle 14 noi l'ora solare ringraziandovi sempre per quanti siete e come siete vi aspettiamo grazie a tutti grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi